Il turismo in Italia sconta l'impennata dei prezzi. Secondo Demoscopica, le previsioni per il 2024 segnano un andamento al ribasso dei flussi nel bel paese. 130 milioni di arrivi e 445 milioni di presenze, con un calo pari al 2,5% e allo 0,4% rispetto ai 12 mesi precedenti. A pesare maggiormente, secondo le stime dell'Istituto di Ricerca, sarebbe la quota degli italiani rispetto al mercato estero. In particolare, a optare per una destinazione del bel paese sarebbero il 4% di italiani in meno, generando poco meno di 208 milioni di pernottamenti. Per il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, serve una programmazione più consapevole per adeguare l'offerta del bel paese ai cambiamenti in atto dei consumi turistici e per arginare la crescita dei prezzi. Il caro vacanze potrebbe pesare per ben 5,9 miliardi di euro nei 12 mesi dell'anno in corso. Secondo Assoutenti, strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoratori e operatori del settore hanno applicato sensibili rialzi dei prezzi, speculando sulla ripresa del turismo straniero in Italia. Solo ad agosto i prezzi dei pacchetti vacanza sono saliti del 37% su base annua.